Radko Mladic sfida il tribunale penale per la ex Jugoslavia. L'ex generale serbo bosniaco ha annunciato che oggi non comparirà in aula per la seconda udienza del processo per genocidio e crimini di guerra commessi in Bosnia tra il 92 e il 95. Mladic, che ha definito le accuse ripugnanti, boicotta ora l'udienza. Non avrebbe avuto il tempo necessario per preparare l'appello a causa dell'attesa approvazione del proprio collegio di difesa. Al tribunale non è giunta alcuna comunicazione ufficiale, ma se Mladic deciderà di non comparire, toccherà al giudice dichiararlo non colpevole d'ufficio per far avanzare il processo che entrerà nel vivo tra diversi mesi. Quello di Radovan Karadzic accusato degli stessi crimini cominciò 15 mesi dopo l'arresto.